1, 2, 3 Filate subito in macchina, forza! Papà non vieni con noi! Ci raggiungerà dal nonno, su andiamo! Ho un'idea, facciamo uno scherzo a papà! Uno scherzo? La sorella dov'è? È andata con la mamma! E lo scherzo dov'è? Lo scherzo sei tu! Fai in fretta, ti prego! Io vado avanti con i bambini! Sette, otto, nove, dieci, arrivo! E lo scherzo sei tu! Grazie a tutti